Il sindaco di Morbegno non ci sta, il comune non risulta infatti assegnatario del bando ministeriale per la valorizzazione dei giardini storici. Alberto Gavazzi, smaltito alla prima delusione, ora chiede spiegazioni al Ministero dei beni culturali. Sindaco Alberto Gavazzi, ben ritrovato, oggi ci occupiamo del comune di Morbegno. C'è una certa delusione a Morbegno per quanto riguarda l'assegnazione del bando ministeriale per i giardini storici che non ha incluso appunto il giardino del palazzo Malacrida. Ecco, vogliamo parlarne sindaco? La delusione sta fondamentalmente in questo. Questo bando riguardava i giardini monumentali di proprietà pubblica. Devo dire che se sono andati bene alcuni bandi importanti, regionali che abbiamo preso, legati sempre a interventi sui movimenti, perché abbiamo avuto bandi che stanno valorizzando o devono valorizzare sia il palazzo Malacrida che l'ex convento di Sant'Antonio. In questo caso era specificamente legato il bando ai giardini monumentali di proprietà pubblica. Siamo risultati in provincia non premiati. Adesso a questo punto cosa pensate di fare? Allora, quello che abbiamo pensato di fare è, siccome è un bando ministeriale, il deputato, l'onorevole del Barba è morbegnese, conosce il problema, lo conosceva già, abbiamo tramite lui contattato il ministero per avere con notizia, contezza delle motivazioni per cui c'è stata questa esclusione, ma soprattutto abbiamo bisogno di sapere qual è il regolamento rispetto al quale la giuria si è riferita. Lo so che questa partita lei l'ha seguita personalmente, per cui immagino ci sia anche un po' di delusione personale. Sì, la delusione personale è perché ci si contava molto, ma anche per un altro argomento, non solo di merito rispetto al palazzo, ma anche di merito rispetto alla stessa provincia di Sondilo, perché tra i giardini monumentali di proprietà pubblica mi pare di poter dire che ci sono tre palazzi, c'è Vertemate, c'è Teglio con palazzo Pesta e mancava Morbenio secondo me. Il fatto di non aver neanche considerato un intervento sulla provincia di Sondilo la vedo una decisione particolarmente negativa nei confronti della provincia di Sondilo, non solo del comune di Morbenio. La ringraziamo del suo intervento, è stato chiarissimo, naturalmente seguiremo ancora l'evoluzione della vicenda e cercheremo di capire perché il palazzo Malacrida è rimasto escluso da questa partita. Grazie, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Un vero peccato dunque, perché il giardino monumentale di palazzo Malacrida a Morbenio è un vero gioiello, ma avrebbe bisogno di un intervento importante. Questi due milioni hanno tanto il sapore dell'occasione persa.